L'influenza arriverà solo a fine novembre, ma gli specialisti hanno già disegnato l'identikit dell'epidemia che metterà a letto 4 milioni di italiani, meno della scorsa stagione che vide 6 milioni e mezzo colpiti dal virus del freddo. Professor Pregliasco, sveliamo il volto dei tre nemici. Tre nemici appunto perché ormai le stagioni influenzali sono dovute a un mix di virus influenzali. Quest'anno ci aspettiamo la preponderanza di un virus australiano, a victoria, H3N2 la sua sigla, il virus pandemico ormai declassato a stagionale che continua la sua opera e un nuovo virus B, Massachusetts, che anche questo ci inquieta perché è una variante rispetto al passato. Insomma c'è qualche novità nell'identikit dell'influenza? Questo significa che avremo un nuovo vaccino? Il nuovo vaccino è già stato predisposto sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in qualche modo sarà da proporre e quindi bisogna rilanciarne l'uso. La campagna vaccinale prenderà il via a novembre ma la risposta degli italiani è ancora troppo bassa. Un'indagine DOCS dimostra che la scelta terapetica prevalente è l'automedicazione. Antipiretici per la febbre, antinfiammatori, sciroppi per la tosse e antistaminici per il raffreddore. Tutti con il bollino rosso che contraddistingue i farmaci senza ricetta medica. Bisogna sceglierli perché sulla base dell'intensità dei sintomi che si stanno subendo. Ci sono prodotti che hanno solo l'azione antifebbrile, ci sono prodotti che hanno con la presenza di altri principi attivi anche decongestionanti nasali e che quindi devono essere graduati seguendo le indicazioni del farmacista e del proprio medico. Bene, allora mettiamo un bollino rosso sull'influenza. Grazie a tutti.